ah tu intendi così si è più competitivo potrò aiutare un gioco è bellissimo anche quello si oh no dandelion no ma la signora lì ragazzi la signora ha qualche problema eccolo qua scusate se non sto leggendo ma tanto praticamente sto parlando dei souls che io ho giocato solo a dark souls 1 e 2 e poi anche perchè devo capire qua cosa sta succedendo e appena mi distraggo come vedete ci sono cose eh allora infatti a parte che anche se state parlando tra di voi mi posso anch'io farmi gli affari vostri visto che sto leggendo anch'io però siccome sono giochi che non ho fatto a parte i souls non so cosa dirvi dai parla chiaramente non iniziamo a romperci esatto basta la scuola di uno di sui grandi generali ha sembrato Eridin significativamente due altri rimane come dobbiamo ridurre loro? Caranthier è un loyalista, ma Gels è un'altra storia è stato un attenzione del nostro precedente è un'altra storia e come si succede Eridin poissi i nostri amici i nostri amici non rispondi la mia domanda come non importa ciò che importa è che io lo so e ho un'idea di come usare questa storia buono non ho menzionato di uccidere gelle eh no, infatti cosa intendi fare? facciamo bene bene, quindi cosa propone? voglio portare Gels voglio portare Gels e dimostrare la verità di ciò che succede ecco un plan ecco un plan se stavamo solo dove trovare lui noi in la terra della NL la terra della NL? la terra della NL? non ricordi non ricordi dopo tutto hai avuto con Eridin per qualche tempo la terra della Alderfolk il mondo dove siamo arrivati centrii ago un mondo che è ora il nostro i Red Riders arriva da lì e lì 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 tutto c'è giusto due disegni News è vero Sì, ho paura di fare L'ordine di tutte queste missioni Perché No, ho preso Andiamo giù C'è un sacco di roba da fare Uno la moda è una roba L'altro è un'altra roba Poi Missioni Andiamo ad andare a Yennifer adesso Tu non ha niente da dire Così Chiediamo Vedete, anche per caricare Una shortcut Normalissima, fa così Deve caricare tutto Eh sì, è la 4 Per carità Eh, almeno lo fa girare Insomma, poteva andare anche peggio Però Cioè, mi spiace Che è così Ah, là c'è un'altra missione Uh Un sacco di roba da fare qua Ma io direi Prima di finire Gli ultimi preparativi Tanto non penso Che ci sia un timer Per fare quello Io direi Di fare altre missioni Perché se no Ci blocca come prima E via E via Intanto io salverei Perché già siamo arrivati qua Allora Montebrullo Togliamo questo Il mastro fabbro Ok Allora Andiamo a vedere Cosa possiamo fare Tanto penso Che faccio un'altra roba E poi ci salutiamo Sconfiggi 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 Torreo di lotta Vado 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 subito Montegrullo Grullo in Toscana Vuol dire Stupido o scemo Consenti dai Non ha detto niente di che Ok Allora Vado qua Andiamo a fare a botte Ovviamente non fatelo a casa Eh Dei videogiochi È concesso Ma dal vivo Davvero no Eh Salve Buongiorno Che mi indica L'altro tizio Vabbè Me ne vado di qua Ho detto Ma parli con me O parli con loro Perché ho perso Un po' il filo Di discorso Se parli con me Ho detto di non Non picchiare la gente Senza motivo Della realtà E videogiochi È concesso Invece E ho capito Ma le bestemmie Fa parte del Non si dicono Specialmente Sul mio canale Quindi E poi Praticamente Mi aveva messo Nel forse La frase Di Kyle Quindi l'ho Messo Che ho accetto La frase Ecco Bravo Dai Lasciala in pace Da tutti che vogliono Infatti che non ci sarebbe Né che motivo Di bestemmiare In questo momento Quindi Oggi Sei abbastanza Tranquillo In questo senso Ehm Prego Che dobbiamo dire Oh mamma mia Questa qua Ah posso picchiare questa Curbo il tizio Venta fare duro Con un tizio L'ammaturo Do spadone Mentre l'ho vestito Eh esatto Ma pensa a te Oh Prego eh Signorina Allora Ma dietro Ce n'è uno Da picchiare Eccomi Eccomi qua Come no Ah sta già Aspetta Devo parlare Col tipo È a posto Se dovessimo giocare Assieme Specialmente Night Dove sempre Ricordare Che siamo In live Basta non far Sentire Quello che dici Sì dai Va bene Certo certo Dai Aia A parte che siamo In un buco Qua Eh volevi eh Davi Aia Come ti permetti Fatto Fatto Che ci vuole Anche se consentite Non vanno bene Ma dipende Dipende Perché leggendo le regole Ho letto che dipende Dal contesto Però sì In teoria Non dovrebbero Essere accettate In pratica Non convento Perché sappiamo Tutti com'è Ma mi spieghi Siri Perché sei uscita Fuori Con le lingue Non ho capito Io Siri Si è attivata Mettendomi Una lista Di Di cose Stop Siri Ah neanche L'avevo letto Il messaggio Che ho scritto Mi ci fai vedere Le succube Va benissimo Vabbè Stanno succedendo cose Oh non avrà senso per te Ma io non voglio rischiare Poi Degli altri canali Potete vedere Quello che volete Aspetta che Mi ha messo la chat in pal Eh esatto Si Tu dice detta regole Ma fin quando usi La piattaforma Devi fare quello che dice La piattaforma Logicamente Se hai un sito tuo Chiamato che ne so Adesso invento Eh Kyle Special Allora Le regole sono tue Sampi Sai quante cose Sono strane Della vita Eppure Non sono come vorresti tu E l'elenco Non te lo posso fare adesso Perché devo Malmenare sto Dov'è Devo entrare in questo posto Qua Ah si Con chi devo parlare Ah questo Faccio Questi qua E poi vi saluto Vai Sono pronta A lottare Allora Bello Eh Un po' troppo Vogliamo Devo ricordarvi Di fare una lista Di parole Che sono consentite Quelle che non sono consentite Perché non l'ho ancora Fatta Eh Dimmi Stai Accomandazioni Si può combattere Basta Qua Non intendo Barare Esatto Quello è il mio motto Praticamente Versus Georges George The pile Driver May the better Man win Oh E poi E poi E poi Ok Posto Spostati Spostati Bravissimo Si massacra il mostro Ma solo io Ma solo io lo sto massacrando Il problema di questi scontri Che poi mi fanno male le mani A posti Po Pop popopopopopopopopopopopopopop una volta avevo perso mi sembra in uno di questi però era all'inizio va bene ci vado subito da Mortimer poi chiudiamo la live per oggi abbiamo avuto un sacco di emozioni si si non rompere in teoria non andrebbe spammato così eh ma non lo sono capace a fare mi dimentico i tasti lo sai poi picchiaduro l'ho sempre fatti così perciò non ci sono problemi almeno per me non ci sono problemi per gli altri giustamente è uguale a te non si fa così devi fare cosa lo so ma non sono brava neanche picchiaduro quindi in questo caso attacco e basta così la finiamo anche prima nel combattimento il combattimento è più difficile quella tecnica non funzionerà eh che ti devo dire la faremo funzionare si brodero dritto per dritto non aspettiamo nessuno infatti io non sono mai andata a certi livelli e picchiaduro perché tanto facendo andavo avanti così c'è uno dei miei preferiti che è persona for arena ultimax che mi manca un combattimento solo per andare alla prossima alla prossima cosa al prossimo livello tipo e non sono ancora riuscita a farlo adesso proverò a fare come dice Dario ma non mi troverò l'altro anche se è corretto fare così le cose com'è che si riparava L2 giusto? prima che faccio tasti che non posso toccare 24 perché nel gioco sono tirchia vediamo se riesco sì L2 no adesso leggo eh un attimo in due ci siamo menati assieme mi piace di più così il combattimento aia adesso sto masterando Garchomp bellissimo e beh io ho comprato Pokken lo tipo finito ma ho cantonato poi c'è un sacco di Pokémon che mi spiega e beh sì questo so usare anche il metodo normale parare spostarmi eh i connovati eh comunque no non ce la fa la mia console ce la lo vedete anche voi frutta e sarto per il titolo di L'Ovringrad vabbè che ora è? sì ce la possiamo fare se la parata la fai all'ultimo lo puoi sordire far più male poi lo imparerai eh lo spero di impararlo perché con questo gioco dimentico puntualmente i tasti dai andiamo a fare il sarto così finiamo la missione e poi mi prenderò del tempo per potenziarlo fare un po' di roba perché se vogliamo fare le altre cose ci voglio andare sul sicuro stavolta anche a costo di farmi le secondari anche in live che dipende anche se c'ho tempo ultimamente il tempo è un po' tiranno c'ho tante cose da fare e non riesco a farne mezza anche perché sto aspettando finalmente una cosa e si spera che arrivi presto il giorno in cui ve ne parlerò allora questo è il tipo ok dove prima che mi ammazzano qua ah questo qua su The Witcher è abbastanza facile la piazza del ferro è piuttosto ampia ah ok sono io che sono impedita ve lo dico tranquillamente con The Witcher proprio sono impedita sono più brava in altri tipi di giochi a chi è questo questo campione ah 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 no dai picchiamolo e basta stupendo stupendo no ma guarda che io non mi off cioè nel senso non me la prendo come come offesa perché alla fine nessuno è bravo a far qualcosa se logicamente non impara bene e non lo fa anche per tante volte e questo vale anche per i videogiochi cioè se ci giochi e impari bene i tasti è un conto ma se non ci giochi mai ci giochi si inghiozzo come faccio io è dura a imparare no a fare le cose quindi non pensate che se qualcuno mi viene a dire ah tu non sa giocare mi piu' offende ci mancherebbe sarà il campione quello che mi dice che io non so giocare quello sicuramente dai dai avevamo bloccato e dai aia eh mi ha preso stavolta ok ok aspettate eh sono concentrata questo è tosto siamo beccati tutte e due già lui non sta funzionando visto no questo per me è troppo forte esatto vabbè fa niente che sono le vostre di wrestling tipo eh più o meno vabbè fa niente non ce l'abbiamo fatta all'ultimo chi se ne frega ho detto io me la prendo proprio tranquilla in modo tranquillo senza stare lì ad arrabbiarmi tanto non ha senso una volta sì una volta oh mi arrabbiavo posso fare un'altra volta sì ma devo per forza vincere quindi ci riprovo dai so che devo far rifare dai l'ultima volta e poi ci salutiamo fatto non fatto non è importante allora sono riuscita a fare mezzo perri aia non lo vedo non lo vedo ok aia e allora mettermi nell'angolino no eh qui ti permetti dai sarto picchiami dai sto aspettando solo questo sta fermo ma perché non lo becco più sta fermo non ho capito sta cosa ah ok ha ripreso a fare il suo lavoro oh visto fatto sì sì non ti preoccupare l'importante è che ce l'abbiamo fatta partiene a me ragazzi sono la campionessa di Novengrad quindi ci vuole un applauso qua sono riuscito a farlo abbiamo tutte queste ok allora io salvo qua intanto vi ringrazio della compagnia e niente ci vediamo qua probabilmente mercoledì ma vi farò sapere nel caso non ci fosse nulla intanto vi auguro buon weekend e vi ringrazio di nuovo ciao ciao